Subito dopo l'estate il mercato rionale che il giovedì anima il lungomare centrale di Roseto verrà trasferito nel centro cittadino. Ma il prossimo giovedì 27 giugno si procederà con una fase di sperimentazione fermo restando che la mattina le bancarelle verranno sistemate sempre sul lungomare Celommi per la regolare attività. Poi si procederà con la definizione degli spazi nel nuovo sito una scelta dettata dalla necessità di verificare anche in condizioni estreme in termini soprattutto di traffico sulla statale e in alcune vie interne la fattibilità della nuova proposta. Il sindaco Sabatino di Girolamo e l'assessore al commercio Orazio Vannucci in presenza del dirigente Paolo Bracciali e del funzionario Pino Vallese hanno già incontrato gli ambulanti e le principali sigle associative per rappresentare ufficialmente la volontà dell'amministrazione di procedere con lo spostamento in centro. Al momento, come ha spiegato l'assessore Vannucci, si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli relativi al piano di sicurezza. I commercianti hanno dato la loro disponibilità a trasferirsi ma hanno chiesto all'amministrazione comunale di far rislittare lo spostamento del mercato dopo i mesi estivi. Una richiesta legittima che il Comune intende assecondare visto che gli operatori hanno manifestato quanto per loro sia importante approfittare della bella stagione e del passaggio sul lungomare di potenziali clienti per i loro volumi d'affare. Vista la delicatezza del momento economico, appuntualizzato Vannucci, sicuramente difficile, intendiamo assecondare la richiesta anche in virtù dell'apprezzamento e dei toni pacati dello spirito di collaborazione manifestato in questi giorni. Soddisfatto anche il primo cittadino rosetano, questa decisione risponde non solo a logiche di sicurezza per il transito di eventuali mezzi di soccorso, ma incentiva anche la frequentazione del mercato da parte di anziani e famiglie più orientati a raggiungere le bancarelle in centro piuttosto che sul lungomare durante i mesi invernali. Sono 70 gli ambulanti che al momento danno vita al mercato del giovedì, messa a punto la mappatura delle aree su cui si distribuiranno in autunno le bancarelle Piazza della Libertà, Piazza Dante, Piazza Verdi, Via Cavour, Via Milli e Via Di Donato. Tornando alla sperimentazione del 27 giugno, in quella giornata i commercianti dopo le 14, quindi al termine del mercato sul lungomare, si sposteranno in centro per iniziare a sperimentare gli spazi e a prendere confidenza con la nuova destinazione logistica che entrerà in vigore entro la fine di settembre.